Per il civis romano impegnato nella vita politica attiva, il negozium, anche la scrittura di opere poetiche assieme a quelle storiografiche era riservata al tempo dell'ozium, alla sfera del tempo liberato da impegni, ritenuti più importanti nella gerarchia dei valori della società romana. Ma che genere di poesia poteva essere praticato dal civis romano? Una poesia sotto il segno dell'epica, la narrazione in versi di imprese eroiche per lo più celebrativa della potenza di Roma. Il modello di riferimento erano gli Annales di Egno, poeta originario dell'attuale Puglia, vissuto tra la fine del III e gli inizi del II secolo a.C. Gli Annales erano un poema epico in 18 libri, in cui si celebravano le gesta del popolo romano, dalle origini mitiche, l'arrivo di Enea nel Lazio, fino all'espansione di Roma nel Mediterraneo, nel II secolo a.C. Gli Annales di Egno erano il modello di poesia impegnata, di poesia civile, a cui poteva dedicarsi il civis romano nell'ozium riservato alla scrittura letteraria. Con il poeta Gaio Valerio Catullo e con la generazione dei poete novi, si assiste a una sorta di rivoluzione. Essi rifiutavano infatti la tradizione poetica incarnata da Egno e coltivavano un genere di poesia più raffinato e moderno, sia sul piano stilistico che dei contenuti. Con i poete novi e soprattutto con Catullo, si afferma una nuova dimensione dell'ozium e parallelamente una concezione totalizzante dell'amore. È su questi due aspetti che concentreremo la nostra attenzione nel breve percorso dedicato al poeta veronese. Grazie. Grazie.